Ragazzi, buonasera, saluta Marina Allora, questo video verrà caricato sia sulla pagina Facebook sia sulla pagina di Youtube Su canale di Youtube E resterà online più poco, tipo fino alle 8 E per annunciare che ci sarà la streaming sul canale di Twitch Quindi se non mi facevo questo video probabilmente non lo veretevate Molti hanno detto, stai più non uso Facebook, dillo sul canale quando fai la streaming Ok, stasera alle 8, canale di Twitch qua sotto in descrizione Cazzeggeremo un paio d'ore, 2-3 ore E niente, basta, tutto qua Vero Marina? Sì, basta Va bene ragazzi, dai Mi raccomando venite, si giocherà a Minecraft, si giocherà a FIFA Proveremo a giocare anche a Destiny se c'è Vegas, anche se non gioco da una vita E niente, basta, questo Marina si scuote